Volontari e peregrini sono partiti questa mattina dalla sede della sottosezione Unitalsi di Nocera Inferiore per raggiungere la stazione centrale di Napoli, dove partiranno in treno per un'esperienza colma di fede e religiosità e che culminerà nell'intensa settimana di preghiera in incontri quotidiani all'Urd. Il viaggio rappresenta un momento di condivisione e di socializzazione ancora più utile, in un momento storico in cui si registra un indebolimento dei valori. Sicuramente il nostro scopo è per statuto, quindi noi partiamo con persone che possono e con persone che non possono. Lo scopo dell'Unitalsi è portare ammalati e poveri all'Urd. Saranno 26 ore di treno, però noi lo affrontiamo come sempre è stato fatto, con amore, disponibilità, pazienza, c'è tanto entusiasmo tra di noi. Però io tengo a precisare che il nostro pellegrinaggio importante, diciamo, è quello che noi facciamo ad aprile con il treno bambini. Quindi portiamo dei bambini all'Urd, li andiamo a piano in ospedale, a casa ed è una cosa meravigliosa. Molte volte è andata abbastanza bene, ci auguriamo anche quest'anno, però quest'anno, mentre gli altri anni duravano 24 ore, il viaggio adesso dura 27-28 ore. E nel nome del Signore, sotto la protezione della Madonna. E nel nome del Signore, sotto la protezione della Madonna.